è morto oggi 23 febbraio 2019 vinnivella era davvero un personaggio emblematico per quanto riguarda il cinema e purtroppo non c'è più pensate che recitò in pellicole come casinò e donny branco se non vado errato un personaggio dunque emblematico per quanto riguarda il mondo del cinema il mondo dei film delle pellicole seppe davvero ben interpretare i ruoli in maniera perfetta a livello cinematografico ripeto ma purtroppo la morte è arrivata anche per questo straordinario uomo dopo la morte di marella agnelli oggi in data odierna 23 febbraio 2019 anche questo straordinario protagonista del cinema se ne va via muore si spegne nel giorno del mio compleanno che è oggi 23 febbraio 2019 mentre io compio 32 anni loro purtroppo invece sono morti grazie per l'ascolto di questo video di oggi attresi per la visione vinnivella riposi in pace amen